C'è un video di Omni Napoli in cui si sente il Presidente De Luca riferire un discorso avuto con il questore De Jesu in cui lei non esce proprio bene. Ho ascoltato la conversazione tra Vincenzo De Luca, il Presidente della Regione e Leonardo Impegno. Ho visto e ascoltato due volte, a parte quello che abbiamo sempre detto del profilo assolutamente non istituzionale del Presidente De Luca, quando dice in modo ossessivo, rivolgendosi a impegno, dobbiamo individuare dei punti, colpire, attaccare, quello che sto dicendo da tempo. Quindi diciamo che abbiamo avuto un riscontro. Non posso credere che il questore di Napoli abbia riferito al Presidente della Regione in un incontro istituzionale quelle cose sul Sindaco di Napoli. Non tanto sul giudizio sulla città, perché potrebbe essere un giudizio personale, anche se stento a credere che l'abbia potuto dire, perché la città, lo dicono tutti, è nettamente migliorata rispetto a sei anni fa, ma quando fa un passaggio dicendo che questo ha governato come un pazzo. Quindi io non posso credere e mi fermo qua. Chiaramente attendo in serata una fermazione, una dichiarazione del questore di Napoli. Quindi su questo mi fermo e spero che nel giro di questa sera arrivi una dichiarazione del questore di Napoli.